Sijep 2023 continua, ci troviamo allo stand del gruppo Cimbali, l'azienda tutta italiana con oltre 110 anni di vita e ci troviamo in compagnia di Joseph Feiza, il direttore commerciale Italia Buongiorno Joseph, è un gran piacere rivederti Rivederci, buongiorno, un grande piacere rivederci in questo momento pieno Oggi è stata una giornata bellissima, anzi da quando è iniziata la fiera è un continuo passare gente Siamo contentissimi perché vuole dire che siamo ripartiti nuovamente E alla grande direi, possiamo dire che abbiamo raggiunto nuovamente i fasti del 2019 Ma guarda, quasi quasi ti direi che forse di più del 2019 La sensazione, senza numeri in mano, è che ci sia più gente, ma soprattutto Più entusiasmo Bravissimo, più entusiasmo, più gente diciamo del canale professionale che ha voglia di ripartire E' proprio così, e voi in quanto leader di mercato andate a realizzare un'offerta davvero estremamente ricca Cosa presentate al vostro pubblico qui a CIGEP 2023? Allora, avere una leadership non è facile, bisogna sempre stare all'ultima, all'avanguardia E soprattutto dei prodotti e delle tecnologie Allora, oggi durante il CIGEP che cosa principalmente presentiamo? Presentiamo tutta una gamma di macinatosatori nuovi Si chiamano G50 e MD500 D'accordo? Che ci portano una tecnologia avanzata Soprattutto flessibilità durante la macinazione E la possibilità di poter comunicare con la macchina di caffè D'accordo? In più, nuovi settori Entriamo in casa del pubblico che vuole assaggiare un caffè speciality Un caffè di qualità in casa Con la macchina Faemina Non ultimo, anche la macchina superautomatica S15 Che ci permette di andare nei nuovi canali come OCS Ossia andiamo all'office a offrire un caffè di qualità come nel bar Beh, un'offerta non solo estremamente varia Ma davvero molto completa Molto completa, questo è solo l'inizio Perché qua quest'anno abbiamo la host Allora, non possiamo anticipare tutto Stiamo aspettando sicuramente la fiera Principe Bravissimo, Principe Io non voglio dire più importante perché qua al CIGEP Sai che negli ultimi anni noi siamo contentissimi Perché si vede qualità dei clienti, dei partner Che vengono di tutto il mondo Non è solo una fiera italiana né europea Qui vengono gente di tutto il mondo Però evidentemente OCS è il principe della fiera Diciamo che pochi lo sanno Ma all'interno di OCS Che è la fiera dedicata all'ospitalità È integrata anche la fiera del caffè È quella che una volta si chiamava la fiera del caffè E poi è stata integrata all'interno di OCS E così poi a OCS potete trovare anche diverse altre attrezzature Per le torrefazioni Per la realizzazione del commercio del crudo e così via Questa è una piccola chicca Che ogni tanto mi tocca tirare fuori Per fare informazione Noi che facciamo informazione dobbiamo Abbiamo il dovere di andare a ricordare queste cose Che poi altrimenti passerebbero davvero sotto traccia Devo dire che tu sei molto bravo Comunque sono tanti anni che sei sul mestiere E veramente non lasci mai scappare nulla Sì effettivamente OCS sarà O un OCS importante Perché è anche un OCS di ripartenza Gruppo Cimali ha in camera progetti molto interessanti Non posso anticiparvi nulla Però sicuramente ci saranno delle novità Mi ero dimenticato un aspetto molto importante Gruppo Cimali si tiene molto alla sostenibilità Per noi è un progetto importantissimo Sappiamo la difficoltà dell'energia Dei costi Stiamo molto attenti ad avere tecnologie Che permettono un risparmio Dell'utilizzo dell'energia nelle macchie del caffè Noi con il lancio di nuove tecnologie E delle nuove attrezzature Sarà una parte importantissima Nonché strategica E lo vedremo sicuramente all'OS E allora io intanto Faccio il countdown giorno dopo giorno Per i prossimi 270 giorni Finché non arrivi la data fatidica In cui voi a OCS Andrete a presentare delle novità Ci sarò Sarò presente Se tutto va bene E sarete poi oggetto Di una delle mie interviste Per raccontare a tutti loro Ciò che è importante sapere Per l'evoluzione del mercato Da parte del gruppo Cimali E noi con molto piacere Ti aspetteremo Facciamo il countdown Iniziamo già a lavorare E ci vediamo l'host